Cosa ci canta? Spontaneamente? Sorprendimi? Oh, che bella! Ah no, pensavo di cesserare a me per zeccare, no? Sorprendimi la canzone, giustamente. Ok, signori e signori, di... Beh, non mi ricordi. Dirige l'orchestra Selenia Arzella, Sorprendimi. Canta, Eleonora. Eleonora. Sorprendimi, baci che non conosco di notte, stupiscimi. E stiamo in volte su al caso, ti prego, sorregimi, aiutami. E io! non lo so se tu che sarà è un po' il fascista che c'è il titolo lei, allora lei ti sei sordo però ti ha messo a rientro allora ci canto questa canzone lasciate un momento in silenzio per favore se la vuole la chi deve andare si rende se ne conto sia fermi tutti ti canto è una messa cosa c'è? cosa c'è? lei, ingegnere, mi dica io sono un campione questo lo so ma è solo questione di punti di vista ma come mi sono in questo posto dove io sto mi chiamano Marco Marco è ciclista mancano molte e si perde la strada perché prima o poi ci sono tutti i momenti perché c'è questa è la propina ci credo sulla parola un applauso sono bellissimo sono bellissimo lui in pieno ha fatto guardi ma chi mi si compra? sto a guardare la vera giustamente bene passiamo al terzo al terzo cantare Gianluigi ciao ciao Gianluigi signori Gianluigi e ci canto grande figlio di puttana grazie scommetto che me la stai litigando in questo momento perfetto grazie mamma vai ci sta vai grande figlio di puttana ci siamo qua non ci voglio dire vergognati vergognati se una madre capisce che io per far arrivare il microfono la mica stava a canare ce le fa ci vuole io potrei anche arrivare lì ma mi avrei più orientato prima di arrivare fino a lì quindi mi sciocchia che ci tengo se mi danno anche attivo fermata no intanto vado a prendere il capito pensavo di essere già questo bene allora chi altro canta? lui lei 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 come io no con il microfono in mano che cosa fai il microfono in mano? scusi mica stava a salire anche al sciopo cioè canti qualcosa che può che sia no per dire io non canto con il microfono in mano che cosa lei ma chi è? eh Clara la buona ciao Clara vai cantaci questa canzone la rimascia vai come si è fatta la parte del senso? c'è cinque minuti e creda il senso a tutto il mondo incontrarti è come se se sputtasse fuori il sole dietro a te grazie 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 allora c'è il vento ma ma perché non volevi cantare? perché? non era in livelli di lui di figlio non era in livelli di lui questo ve lo dico perché non c'erano non è possibile da quelli anni però c'era eh loro stavano litigando ma canta quella no ma io come c'era io perdone ma così muovi la bocca e ti doppiamo come se ti metti anche lei chi è lui? lì a questo lato la bambina la bambina la bambina la bambina la bambina non è io canto vai la bambina sta piangendo e io non voglio cantare questo mi fa capire quante volte i bambini vogliono cantare e vogliono cantare dai c'è un altro volontario qui in questa zona no signora io non ci lasciamo arrivare ah qui si però qui si allora facciamo così per il prossimo anno facciamo una bella golletta un braccio e lo voglio riferire e facciamo cantare anche io un attimo la signora dice non mi fa fare vai nome e cognome guarda nome e cognome non è la corice di scappa ti mando un bacio con il vento e so che tu lo scalterai ti volterai senza vedermi unendo gli occhi mi vedrai e mi capirai e ti volterai tu 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 ti ti li tu 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 ti li tu 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 ti li mamma eccezionale 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 io non so voi come farei di agiliare anche sottopresenti che c'era lui bene andrea dobbiamo chiudere no 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 sono qui in tardissimo ci sono gli stadi qui dietro no 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 applauso per gli stadi che sono qui dietro sono qui dietro anche lì sopra andrea stanno per cacciarci chi vince chi vince c'è una cosa chi vince allora facciamo un applauso per Agnelio un applauso per figlio di Nenazana un applauso per l'ocerio di Nenazana un applauso per l'ocerio di Nenazana e poi che mi sono perso aspetta gli ultimi due applausi maglietta rossa ho scordato qualcuna? l'ultima l'ultima dove era l'ultima lei io direi che mi sa chi ha vinto chiaro un applauso per lì l'autodraffato e allora signor e signori noi gli all'ATB sono arrivati sotto e certo vi salutiamo gli stadion sono pronti quindi facciamo un applauso prima signori fate i pene ti guarda solo perché quella non è davvero non è una burla quindi fate voglio che fate il più forte possibile anche voi sulla scala mobile cadete non fa niente siamo assicurati pronti? 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3